Nuovo appuntamento con Spazio Notizia ben ritrovati. Apriamo parlando di eventi, uno nello specifico a Catania. In occasione dei 30 anni dalla pubblicazione del suo primo album Petralavica, Caballà ha fatto un dialogo con ospiti e tanti artisti su un tema importante, quello del dialetto siciliano nella musica pop. Sentiamo Lucio Di Mauro. A Catania, presso la sala Auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, Pippo Caballà ha incontrato il pubblico per un evento speciale che lo ha visto dialogare con autori, musicisti e critica specializzata sul dialetto siciliano nella musica pop. Ha moderato il giornalista Gianni Caracoglia. L'appuntamento nasce in occasione dell'uscita della nuova versione totalmente rimasterizzata del primo album di Caballà, Petralavica. Disponibile in digitale e in vinile 33 giri a tiratura limitata. Presenti tra gli altri Mario Venuti, Carmen Consi, Luca Madonia e tanti altri amici che non volevano mancare a questo inedito evento. È stata l'opportunità per un prezioso confronto a più voci sulla forza e sulla bellezza della lingua siciliana quando si veste di musica contemporanea, raccontando l'identità culturale della Sicilia attraverso storie, suoni e riflessioni. Uscito originariamente nel 1991, Petralavica sfidò le convenzioni con un audace mix di rock, folco mediterraneo e influenze internazionali, cantato in dialetto siciliano. Sono gli anni 90, un'epoca in cui il panorama musicale italiano stava appena sperimentando la fusione tra dialetti e nuove sonorità. Caballà osò spingersi oltre, dando vita a un nuovo lavoro che anticipava i tempi e guardava la scena musicale europea. Pippo Caballà sarà ospite in una delle prossime puntate di Mediarte. Ci spostiamo virtualmente a Giardini Naxos con Mauro Romano che ci porta alla scoperta del mondo dei ghostwriters, ovvero i cosiddetti scrittori fantasma. Francesca Scuccia, una ghostwriter qua nel golfo di Giardini Naxos, ma che cosa è una ghostwriter? Ghostwriter significa letteralmente scrittore fantasma. Infatti è quella figura che scrive libri commissionati da terze persone, che possono essere di qualunque tipologia, per poi cedere i diritti e quindi queste persone possono pubblicare come se avessero scritto loro stessi il libro, il romanzo, il manuale. Quanti libri fantasma, chiamiamoli così, ha scritto? Diciamo che negli ultimi sei anni credo di aver superato la sessantina. Ma c'è anche un'altra attività che lei svolge, quella delle recensioni dei libri, ecco ora ha fatto quasi un record, oltre 100, è vero? Esatto, nel linguaggio comune siamo le classiche bookblogger, booktalker. Infatti lavoriamo appunto con delle pubblicazioni che possono essere di autori emergenti o meno, anche perché le case editrici cominciano a dare molto valore a queste figure che si muovono soprattutto sui social e quindi recensire, far conoscere a quante più persone possibili delle nuove uscite. Ha intenzione di proseguire questa sua attività così bella, così interessante? Assolutamente. Parliamo di musica e di talenti siciliani come la cantante Lio, Emilio Chiaramonte. Grande successo per il suo primo brano inedito, TNO, e ci sono delle novità in vista. Lo ha intervistato per noi Lucio Di Mauro. È già un successo il primo inedito del giovane artista catanese Emilio Chiaramonte in arte Lio, che si intitola Trust No One TNO, scritto dallo stesso Lio, musica di Maner, Manuel Rosto, distribuzione Artist First, etichetta Orange Italy di Paolo Muscolino. Il videoclip è stato curato alla regia da Giuseppe Di Brasi ed è interamente girato a Catania e prodotto da Cinema Set di Antonio Chiaramonte, produttore e distributore cinematografico. Ma per Lio è già pronta un'altra produzione discografica. TNO sta andando veramente bene, per me è una grande soddisfazione, infatti ci tengo a ringraziare a tutti quanti, soprattutto per il sostegno che mi sta dando la mia città. Abbiamo superato i 50.000 ascolti su Spotify e vi ricordo che potete ascoltare TNO, il mio primo singolo, su tutte le piattaforme digitali. Il messaggio è quello di scegliere con cura le persone di cui fidarsi e soprattutto di non smettere mai di credere nei propri sogni, qualunque sia il sogno. Uscirà il mio secondo brano a dicembre intitolato Legami Invisibili. Il tema di Legami Invisibili, appunto, lo dice la parola stesso, sono quei legami che anche se non puoi toccare, anche se non sono presenti accanto a noi, restano appunto legami. Il produttore sì, Manerre, io mi sto affidando a lui perché per me ci credo tantissimo in questo progetto che abbiamo avviato, tant'è che abbiamo già tanti spettacoli in programma per il 2025. Si sente sempre più parlare di cyberattacchi e di conseguenza anche di cybersicurezza. Gli esperti dicono che nel 2025 ci sono in arrivo nuovi pericoli derivanti in questo caso dall'intelligenza artificiale. Si tratta di campagne mirate e deepfake per ingannare utenti e aziende, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Nel 2025 il panorama delle minacce informatiche si evolverà rapidamente con l'ascesa di tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica. Secondo Checkpoint Software, l'organizzazione che si occupa di cyber security, gli hacker sfrutteranno le recenti tecnologie di intelligenza artificiale per ampliare il raggio d'azione dei loro attacchi. Le previsioni degli esperti parlano di malware adattivi e campagne di phishing altamente personalizzate, capaci di ingannare anche i navigatori più attenti. I ransomware che bloccano i sistemi richiedendo riscatti per il ripristino diventeranno più sofisticati e automatizzati, prendendo di mira le catene di approvvigionamento globali. L'uso improprio di strumenti di intelligenza artificiale potrebbe inoltre portare all'esposizione accidentale di dati sensibili, mentre l'informatica quantistica minaccerà i metodi di criptografia attuali, considerati i migliori per proteggere informazioni e sistemi. Non mancheranno per Checkpoint Software le problematiche ai social media, dove i contenuti fasulli generati dall'intelligenza artificiale e i deepfake saranno sfruttati per attacchi mirati e truffe. I criminali aumenteranno la diffusione di foto, video e file audio artefatti per alzare il livello delle loro attività. Per contrastare queste minacce, i centri operativi di difesa adotteranno dei supporti, anch'essi dotati di intelligenza artificiale e chiamati copilot, così da migliorare l'efficienza del rilevamento delle risposte agli attacchi. Parliamo ora di antibiotico resistenza, con l'Italia che è al primo posto nell'Unione Europea e una speciale classifica per tutt'altro che piacevole. Vediamo i dettagli del nostro servizio. In Europa ogni anno si verificano più di 670.000 infezioni da batteri resistenti agli antibiotici che causano oltre 35.000 decessi. Un terzo di questi, circa 12.000, si verifica in Italia. Anche quest'anno il nostro paese si conferma al vertice della classifica dell'antibiotico resistenza nell'Unione Europea, secondo l'ultimo rapporto di sorveglianza del fenomeno pubblicato dal Centro Europeo per il controllo delle malattie in occasione della giornata europea per la lotta all'antibiotico resistenza. Se il trend non sarà interrotto nel 2050, l'antibiotico resistenza sarà la prima causa di morte in Italia, superando le malattie cardiovascolari e i tumori. Secondo i dati del rapporto, i cui dati sono stati diffusi in Italia da un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Italia rappresenta il paese con maggiori criticità sia in fatto di antibiotico resistenza sia di consumi di antibiotici. Nel nostro paese, nel biennio 2022-2023, sono stati 430.000 le persone ricoverate in ospedale che hanno contratto un'infezione durante l'adegenza, l'8,2% del totale dei pazienti contro una media dell'Unione Europea del 6,5%. Peggio di noi con l'8,9% soltanto il Portogallo, che tuttavia, precisa l'AIFA, ha una popolazione più giovane della nostra e quindi meno suscettibile. L'Italia, in fondo alla classifica, anche per l'uso di antibiotici, vengono somministrati al 44,7% dei degenti contro una media europea del 33,7%. Il trend è in crescita anche nella popolazione generale. Il 35,5% delle persone ha ricevuto almeno un antibiotico negli ultimi due anni, contro il 32,9% del periodo 2016-2017. L'antibiotico resistenza ha inoltre un impatto enorme sul servizio sanitario. Secondo questo rapporto, circa 2,7 milioni di posti letto sono occupati proprio a causa di queste infezioni, con un costo che arriva a 2,4 miliardi di euro l'anno. Parliamo adesso dell'annuario statistico della FAO. Nel mondo si produce più cibo, ma aumentano a 733 milioni le persone denutrite. La produzione alimentare ha continuato a crescere, ma la fame rimane un problema persistente. Nel 2023 una media di 733 milioni di persone erano denutrite, circa 152 milioni di persone in più rispetto al 2019. È uno dei dati che la FAO ha pubblicato nel suo annuario statistico 2024, che fornisce una panoramica approfondita delle tendenze più significative che stanno plasmando i sistemi agroalimentari globali. L'edizione di quest'anno evidenzia una serie di sfide cruciali, incluso l'aumento delle temperature sulla terraferma, il permanere dell'insicurezza alimentare globale, mentre i tassi di obesità continuano ad aumentare e le pressioni ambientali a cui è sottoposta la produzione agricola. Il valore agricolo globale ha aumentato dell'89% in termini reali negli ultimi 20 anni, raggiungendo i 3,8 trilioni di dollari nel 2022. Nonostante questo, il contributo dell'agricoltura alla produzione economica globale è rimasto relativamente stabile, mentre la proporzione della forza lavoro globale è impiegata e diminuita, passando dal 40% nel 2000 al 26% nel 2022. Quanto ai tassi di obesità, sono in aumento, in particolare nelle regioni ad alto reddito. Passando alla produzione globale di culture primarie, secondo l'annuario, ha raggiunto i 9,6 miliardi di tonnellate nel 2022, con un più 56% rispetto al 2000. Le culture di base come la canna da zucchero, il mais, il grano e il riso rappresentano quasi la metà della produzione agricola nel mondo. La produzione di carne è aumentata del 55% dal 2000 al 2022 con il pollo in testa. L'uso di pesticidi ha registrato invece un più 70% tra il 2000 e il 2022. I fertilizzanti inorganici hanno raggiunto i 185 milioni di tonnellate di nutrienti nel 2022, di cui il 58% è rappresentato dal nitrogeno. Infine, la produzione di oli vegetali è cresciuta del 133% tra il 2000 e il 2021, per lo più grazie all'aumento della produzione di oli di palma. Buone notizie per la regione siciliana con l'approvazione del rendiconto 2023. Il presidente Schifani parla di un risultato storico. Vediamo perché. Via libera del governo regionale al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Il documento contabile, presentato in conferenza stampa dal presidente della regione, Renato Schifani, dall'assessore all'economia Alessandro Dagnino e dal ragioniere generale Ignazio Tozzo, certifica una riduzione delle passività per oltre 3,1 miliardi di euro a fronte dei 435 milioni previsti, superando così di gran lunga quanto inserito nel bilancio di previsione. Il documento finanziario fotografa anche una crescita degli investimenti del 44%, con più di 2,6 miliardi di euro erogati. Numeri più che positivi dovuti, in particolare, alle maggiori entrate, pari a 1,7 miliardi, registrate in Sicilia grazie alla crescita economica, all'aumento del cofinanziamento statale sulla spesa sanitaria e ai risparmi di circa 1,2 miliardi dovuti al contenimento della spesa delle società partecipate e degli enti controllati, ai risparmi sulle locazioni passive, sul funzionamento degli uffici, sulle spese per energia elettrica per circa 200 milioni e alla rinegoziazione di 2,1 miliardi di mutui del MEF con cassa depositi e prestiti. Si tratta di un record senza precedenti, ha dichiarato il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, che ci pone a un passo dal conseguimento di un risultato storico, il risanamento dei conti della regione. Grazie alla crescita e alle prudenziali politiche di bilancio volute dal mio governo, e di questo va dato merito al precedente assessore all'economia, Marco Falcone, abbiamo ripianato il disavanzo riducendo di più di 3 miliardi le passività. Al contempo, con il Via Libera, sblocchiamo le risorse per la firma del rinnovo contrattuale dei regionali che confidiamo avvenga nei prossimi giorni. Un altro impegno che abbiamo mantenuto, ha concluso il governatore Schifani. Il rendiconto generale sancisce anche un forte incremento della liquidità con il fondo cassa che raddoppia in due anni da 4 miliardi a un totale di quasi 8 miliardi di euro. Per il momento è tutto, a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.